E adesso chiamo sul palco Patrizia Menchiari, quando i clienti fanno wow. Ho una domanda per voi. Secondo voi costa di più conquistare un nuovo cliente o mantenere il cliente acquisito? Alzi la mano chi dice conquistare un nuovo cliente. Costa di più, costa di più, costa di più conquistare un nuovo cliente. Alzi la mano chi dice costa di più tenerselo. Ok, gli ultimi studi un tempo dicevano che acquisire un nuovo cliente costa circa 6-7 volte. Gli ultimi dati di Harvard Business Review parlano di 25 volte di più. Che cosa vuol dire? Che andare a caccia di un nuovo cliente è 25 volte più costoso e impegnativo e faticoso e direi difficile di tenersene uno acquisito. Ora, forse per un freelance 25 volte di più è tanto, però se facciamo il conto di è il logo fatto bene, è il biglietto da visita, il sabbatico perché ti devi ricaricare perché se no ne fai, il networking, il sfinimento di tutti gli incontri commerciali, le offerte che non si chiudono. Boh, forse 25 no, però costa tanto, siete d'accordo? Chissà perché il marketing da sempre si focalizza su questo, acquisire un nuovo cliente. È il funnel e trova nuovi clienti e conquista nuovi clienti, tutti fissati con l'acquisition. È pochissima riflessione sul come farsi voler bene e tenerseli questi clienti, trasformare un flirt in una relazione che dura. E questo è il focus, è il mio pallino invece. Adesso vi faccio una domanda. Per alzata di mano, chi di voi vorrebbe avere clienti soddisfatti? Alzi la mano chi vorrebbe averli soddisfatti. Ok, perché vorreste averli soddisfatti? Perché poi sono fedeli, giusto? L'equazione clienti soddisfatti uguale fedeli, siete d'accordo? Sbagliato? Quante volte siamo soddisfatti di un ristorante, di un bar, del parrucchiere e poi pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa? Siete sempre fedeli tutte le volte che vi trovate bene? Rimanete fedeli a vita? Allora gli studi dicono, poi magari voi siete fedelissimi e io non voglio mettere in discussione le vostre abitudini sentimentali con i vostri fornitori. Però gli studi ci dicono che i clienti, anche se fedeli, tendono a essere sempre più, anche se soddisfatti, tendono a essere sempre più infedeli. Ok? E allora come la mettiamo? Il punto è questo, che la customer satisfaction è un concetto bellissimo ma andava bene negli anni 80. Se tu ti limiti a soddisfare il tuo cliente e fare quello che lui ti ha chiesto, né più né meno, ok? Non è detto che questo gli farà provare un sentimento di non posso perdere questo fornitore. Ok? Hai fatto né più né meno quello che avevate pattuito, l'hai soddisfatto, ok, né carne né pesce, va bene. Per avere dei clienti fedeli bisogna andare oltre, bisogna averli più che soddisfatti, bisogna deliziarli. Perché quando tu fai qualcosa di più che lascia il segno e crea una connessione emotiva, la loro facilità a metterti le corna diminuisce. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu gli dai qualcosa che non trovano facilmente sulla piazza. Chiamatela fiducia, chiamatela una sorta di innamoramento. Perché quando noi ci innamoriamo di un fornitore e come ci risolve la vita lui, non ce la risolve nessuno, non siamo così sensibili alle seduzioni della concorrenza. E quindi può venire anche un altro fornitore a dirci guarda io come sono bravo, però noi diciamo assolutamente non rischio. Mi seguite? Se ci pensate, qualsiasi storia d'amore, all'inizio è facile dare il meglio, ma è nel lungo periodo che vengono fuori i grandi. Perché per tenere una relazione in piedi per tanto tanto tempo ci vuole investimento, ci vuole la capacità di reinventarsi, la capacità di andare oltre e mai darsi per scontati. E pensate a tutte le volte che chiama il cliente che abbiamo da alcuni anni anziché dire yeah diciamo ok, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cose, stupirli con effetti speciali, quindi deliziarli con quel qualcosa in più. Come un brand che tutti noi amiamo tantissimo e che sa bene come deliziare le persone, facendole ridere. L'intera penisola si è fermata a ridere per tre giorni, ma proprio risate grasse, non potevamo più smettere. Quindi grazie Trenitalia che ci fa ridere con questo tocco di gran classe e questi pensieri che superano le nostre aspettative. Ovviamente sono ironica, però neanche più di tanto perché un mese fa sono uscita da un Apple Store con 2300 euro tra computer e cavetti fuori e alla cassa il commesso mi ha detto per lei in omaggio una penna, avrei preferito che mi avesse dato uno dei loro costosissimi, come si chiamano, cavetti, insomma adattatori. Oppure niente, perché quella penna lì a fronte di 2000 e rotti euro era abbastanza un insulto. Si tratta di immaginare come in qualsiasi lavoro possiamo creare il cosiddetto effetto wow. E guardate, non c'è lavoro in cui l'effetto wow non te lo puoi inventare. Dalla donna delle pulizie, al barista, al copy, tutti possiamo immaginarci come far fare wow al cliente. Wow vuol dire sorprenderli, fare qualcosa che magari non ci hanno chiesto, qualcosa che fa capire al cliente che l'abbiamo pensato. Giorgio Minguzzi, ieri, oltre a cazziarci tutti quanti, ha detto una cosa importantissima. Eccolo, ciao Giorgio. Ha detto, te lo sei segnato il compleanno del cliente? Non è banale. Ti sei segnato se gli piace il rugby o qual è la sua squadra del cuore? E se il figlio ha avuto un incidente o se ha avuto qualche evento particolare della tua sua vita? Te lo sei segnato? Perché è ovvio che abbiamo tanti clienti, non è che ce li ricordiamo, servono a questi, a questo il CRM o lo schedario, possiamo prendere nota e ricordarcelo. I clienti deliziati sono una forza di vendita silenziosa, invisibile, che parla con le persone e che non deve essere pagata. E guardate che la forma di pubblicità più efficace alla fine sono i clienti fedeli, i clienti felici. Quante volte venite segnalati da un altro, arrivano i clienti col passaparola? Ma il passaparola non è scontato, non nasce in automatico. Se io parlo con un'altra persona e gli dico vai da questo fornitore è perché sono assolutamente estasiato, lo consiglio proprio con grande entusiasmo. E allora bisogna riflettere sul fatto che la nostra prestazione professionale, su cui siamo molto focalizzati, è fatta in realtà di due aspetti. La prima è quella hard, che cosa ti do, cosa tu mi stai pagando, che cosa c'è scritto nel contratto, ok? E se la faccio come patuito possiamo dire che tu sei soddisfatto. La seconda parte è come te lo do, il tuo stile unico e inconfondibile e il tocco personale che dai alla relazione, più o meno personale. Potrebbe anche non essere una questione personale ma come ti faccio fare wow nel modo in cui ti tratto, nel modo in cui risolvo i tuoi problemi. Esempio pratico, mi dice il titolare di un centro di assistenza elettrodomestici che lui ha due tecnici. Il primo Luigi tecnicamente è bravissimo, quando arriva e mette le mani sulla lavatrice Luigi capisce subito il problema. Se quella lavatrice ha ancora degli anni davanti lui il problema lo risolve e gli allunga la vita. Ma le signore chiamano al centro assistenza e chiedono di lui, di Giovanni. Perché Giovanni quando arriva dalla signora chiama e dice signora sono Giovanni di Arte Calor, l'avvisavo che sto per arrivare, adesso ci pensiamo noi alla sua lavatrice. Quando entra nella casa della signora Giovanni si mette le sovrascarpe chirurgiche monouso, ok? Appoggia la borsa a zozza degli attrezzi su una tovaglietta e fa sempre un complimento al cagnolino, al peloso di turno, al bambino nota l'inestimabile vaso Ming in soggiorno. Ha sempre un tocco di attenzione che gratifica la cliente che quando esce Giovanni la cliente dice wow. E il giorno dopo però qual è il problema? Mi dice il titolare del cat. Oh questo qui non ne azzecca una. Il 50% delle macchine su cui mette le mani sono un disastro. Mi richiama la signora e mi dice mi raccomando mi mandi lo stesso tecnico. Ok? Questo che vi sto dicendo non vuole dire fate pure schifo tecnicamente l'importante è che siate wow. No, quello che voglio dire è essere bravi tecnicamente è necessario ma non sufficiente a far felice il cliente. Perché ci sono tutta una serie di bisogni non espressi che hanno a che vedere con la relazione, con come si trovano con noi, con la fiducia, con una sorta veramente di innamoramento. Io su questa relazione tra l'aspetto sentimentale e il business ci sto studiando da un po' e ho trovato tante conferme. Pensate per esempio a Airbnb quando vi fa il questionario di soddisfazione non vuole solo sapere se era bella il panorama ma vi chiede se c'erano dei piccoli tocchi personali, se l'host vi ha dato qualche suggerimento, se c'era Nadia Panato a stylish space curato con particolare attenzione, se c'erano thoughtful touches, tocchi che mostrano proprio come hai pensato al tuo cliente. Penso non so all'host slovena che mi aveva fatto trovare gli ovetti kinder per i miei bimbi quando erano piccoli di mille posti dove sono stati e quello è rimasto nella mia mente. Se ovviamente dovessi tornare in quel posto sperduto sicuramente ci torno o lo consiglio. Un giorno una mia lettrice, perché su questo tema ho scritto un libro che si chiama Cardio Marketing, mi dice è tutto molto bello quello che tu dici ma spiegami come io posso essere cardio e fare l'effetto wow e fidelizzare dei clienti quando io faccio la fotografa di matrimoni e a meno che non si separino, non abbiano brutte, io gli auguro insomma di non tornare più a fare il matrimonio con me e quindi che senso ha? Io le ho suggerito che l'esperienza non finisce quando c'è stata la fattura e il pagamento e quindi le ho detto ma perché non lasciare un tocco wow quando non se lo aspettano, cioè quando tu hai già incassato la tua parcella e allora lei le si è accesa una lampadina e a Natale vestita da elfo, vedete Elisa, che ha fatto una cartolina con tutti gli sposi dell'anno e ognuno di loro ha scritto una nota personalizzata che poteva essere per esempio quel giorno pioveva ma nei vostri occhi splendeva il sole qualcosa che facesse capire che lei ricordava ogni coppia di sposi e il dettaglio di quella giornata come unica. Risultato, a gennaio aveva già riempito tutti i matrimoni non solo del 2019, ok? Ma anche per il 2020 perché secondo voi gli sposi di che cosa hanno parlato con amici, parenti e la cugina che si doveva sposare? Ok? Questo per dire che essere cardio non è carino e puccettoso. Io ho dimostrato nel libro che produce risultati e che il futuro è di chi lascia il segno e lasci il segno non solo perché sei bravo tecnicamente ma perché hai un tocco speciale nei rapporti con le persone. Questo è un altro mio, io li chiamo cardiomarketer, lui vende biglietti augurali in un mondo iper competitivo dove compete con i mega cinesi che scopiazzano le idee creative, le fanno a un prezzo stracciato e lui invece che cosa fa? Va nelle piccole cartolerie, nei negozi di parti e li coltiva, cerca di rendersi utile in tutti i modi non piazzandogli il prodotto ma insegnandogli a loro volta a rendere speciale l'experience legata al biglietto del cliente. Esempio pratico, ha creato per i suoi rivenditori un libro di frasi di auguri perché spesso chi acquista il biglietto d'auguri dice ma io cosa gli scrivo adesso? Voilà, il negoziante può diventare a sua volta friendly del suo cliente con un frasario originale e spiritoso per tutte le occasioni e naturalmente non gliel'ha lanciato, gliel'ha mandato in una confezione con una lettera personalizzata che rimarca il fatto che non l'ha dato a tutti, l'ha dato ai suoi migliori perché non sei cardio con tutti sei con quelli con cui vuoi rimanere sposato a lungo e gli altri se te li lasci per la strada tanto meglio e il fatto di partecipare alle loro emozioni speciali come il loro compleanno, come il loro momento speciale ed essere empaticamente vicini è un qualcosa che fa la differenza perché crea una connessione che non c'entra nulla col prodotto un esempio che ho citato nel libro è quello di Zappos che è forse l'azienda più straordinaria nella cultura di delighting the customer loro sono i fondatori di The School of Wow e tra i loro case history più interessanti c'è il fatto che loro per tutte le occasioni speciali del cliente appena lo scoprono sui social hanno notizia che c'è un evento particolare, la laurea del figlio eccetera mandano dei biglietti scritti a mano un caso era quello di una signora che ha fatto un reso per le scarpe acquistate per il marito che purtroppo era improvvisamente deceduto e l'operatrice senza dover chiedere permesso al suo superiore ha mandato un mazzo di fiori con un biglietto di vicinanza da parte della società il negoziante o l'operatore medio italiano direbbe ma come questo è un cliente che ha generato zero fatturato e anzi una spesa perché c'è stato un reso perché a fronte di zero fatturato fare questo? perché vendere prodotti è una cosa importante ma creare reazioni che durano per sempre lo è di più e sicuramente questo gesto ha lasciato il segno un altro caso è quello di Ace la ferramenta americana alla quale sono legati notevoli numerosi episodi esempio arriva un ciclista sotto shock perché ha appena avuto un piccolo tamponamento e la sua ruota della bicicletta è come un tacos è tutta piegata ok? lui è un pochino così ammaccato comunque sta bene vuol tornare a casa ma la ruota è tutta sbilenca entra nel negozio e dice scusate vendete ruote per biciclette e la commessa dice no mi dispiace non le abbiamo no? dice chiedo al mio collega le faccio sapere il collega arriva e dice noi non le vendiamo ma vedo come posso esserle di aiuto e così esce fuori e con il martello e gli attrezzi che vendevano loro rimette il cliente in condizioni di tornare a casa il cliente poi ovviamente sui social lo racconta a tutti questa è la mia maestra di yoga che dice ho visto che sei mancata alle ultime due lezioni ti mando l'audio della meditazione guidata effetto wow ok? è qualcosa che io non le avevo chiesto ma che lascia sicuramente il segno e ancora un esempio è quello di Beppe il gommista assolutamente cardio che guardate è amatissimo non solo dai suoi clienti ma è amatissimo anche dai fornitori e questo scambio viene manifestato continuamente in questo caso Beppe il gommista parla bene del suo fornitore lo definisce un uomo un amico sempre disponibile a tenderci la mano nel momento del bisogno e lo gratifica di un pubblico ringraziamento in occasione del panettone nota bene per Bresciani ed intorno il panettone di Iginio Massari è un must a livello nazionale è famoso e quindi genera comunque goodwill e un senso che va al di là di ti vendo pneumatici l'altro esempio è il mio meccanico che dopo avermi restituito l'automobile aggiustata io mi rendo conto che l'ha anche lavata ma non mi ha detto te l'ho lavata non mi dice nulla e il mio primo pensiero non è ah furbacchione quanto mi farai pagare di più mi avrai fregato il mio primo pensiero è ti amo non te l'ho chiesto ma ti amo è una cosa in meno che devo fare e se mi hai chiesto 10 euro in più ti amo lo stesso e la prossima volta torno da te e se costi 10 euro in più dove è Paola va bene uguale perché so che tu sei il mio fornitore non me ne frega niente di 10 euro in più o in meno allora per citare Tom's la marca di scarpe che vende insieme a un paio di scarpe la promessa di offrire un paio di scarpe a un bambino del terzo mondo loro non sono nel business di vendere scarpe we are in the business of improving life e loro ognuno di noi può pensare non più solo al prodotto o al servizio che eroga ma in che modo miglioriamo la vita del nostro cliente per citare Shep Eichin che è uno degli esperti di effetto wow il suo ultimo libro si chiama proprio così be amazing o go home non ce n'è più per nessuno conclusione essere bravi è importante ma essere amati è un vantaggio competitivo difficile da copiare se vi vogliono bene non vi tradiranno col primo che passa se queste storie vi hanno incuriosito e vi fa piacere leggerle nella welcome kit avete trovato un buono per avere con lo sconto il libro che tratta delle strategie relazionali usate dalle aziende più amate e più profittevoli del mondo per coinvolgere, ascoltare, raccontarsi deliziare per l'appunto imparare e orientare essere un punto di riferimento vi ringrazio moltissimo grazie Patrizia e adesso grazie Patrizia adesso direi che è arrivato il momento di chiamare sul palco i vincitori del contest cardiomarketing che dovevano indicare i loro love brand e portare degli esempi di aziende che fanno di tutto per deliziare i propri clienti e farsi amare verissimo allora il primo esempio il più bello e più ricco spero che sia qui nei dintorni mi ha presentato proprio tutti i punti del cardio è l'esempio che ha citato Emu Nadia Panato in favore di telecamera per favore al secondo posto invece ha presentato il caso di una casa editrice cardio perché non si limita a pubblicare dei thriller ma dei thriller che sensibilizzano su temi sociali e quindi risponde a un bisogno emotivo più complesso Anna Cortellazzo grazie 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 globalmente quantomeno in tutta Europa amatissimo da tutti ok allora diciamo prima la vincitrice e poi quando viene qui diciamo chi è il love brand allora la vincitrice è Stefania Pelloni ma io farei un ex equo lo darei anche a lui è qui è andato? no che peccato Stefania Pelloni ha citato come love brand Calamun Roberto Pasini tantissimo amore molto molto love buona lettura grazie 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 e già che siamo in fase di premiazione vedo qui entusiasta di venire facciamo anche la seconda premiazione chiama Nico premiamo anche facciamo anche la premiazione per il secondo contest quello legato al fisco adesso se sono tanto interessati coinvolti nelle conversazioni che ci sono al banchetto là fuori che si erano dimenticati che dovevano premiare i partecipanti invito sul palco Paola Faravelli e Domenico Gugliari di Forfett Up grazie sei tutto tu che nominano i vincitori allora i vincitori sono Cristiano Ferrari dov'è? vieni vieni grazie solo perché va in barca ringrazio tutti voi la faccio nel mondo no voglio semplicemente uscire con lui in barca visto che siamo due vellisti abbiamo questo vizio e fine esatto poi parliamo e poi vince Laura Sacco che ha fatto la sua prima storia e dov'è? dov'è Laura? Laura? dove sei? Laura? Laura è a buriacarsi dopo il talk Laura non c'è è andata via no ci sei la tua prima storia hai vinto hai visto? ti ha portato bene vieni ma sì sì Laura impara a fare le stories su Instagram e vince un premio c'è qualcosa è l'unica molla che mi spinge la prima che hai fatto hai vinto qualcosa cioè vuol dire che qual è il migliore start vuol dire qualcosa? sono molto emozionata grazie per essere qua grazie no la proverò va bene grazie la proverò sicuramente perché era proprio una roba che volevo fare e quindi se lo faccio per un anno meglio a gratis meglio ok grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo ci vediamo al prossimo anno dov'è l'altra Laura? Laura non c'è è andata Laura Lonighi? Laura Longhi Lonighi vabbè io sono sorta Lonighi Laura Lonighi Lonighi e io Laura eccola che sono tre giorni che provo a fare una storia ma poverina vabbè comunque ti vogliamo bene lo stesso prezzo deve essere una roba delle lauree eh sì probabilmente sì non c'è in tanti modi anche così è fatta rispetto a te rispetto veramente certo che c'è la storia va bene come non detto il prossimo anno saremo molto meglio comunque grazie a tutti quindi abbiamo i nostri tester per un anno quindi ci aspettiamo l'unboxing e il report perfetto grazie mille grazie a tutti